Io forse ho un posto in cui possiamo starcene da soli. Dove? È la casa della nonna di una mia amica. Non ci abita nessuno. Non so se la mia amica è riuscita a prendere le chiavi. Devi telefonarle? No. No, è a scuola. Studiamo insieme. Posso fare un salto lì e ci vediamo lì tra un'ora? Non lo so. Mi hai dato te l'appuntamento. Lo so, è che... Vabbè, se non te la senti, se non ce la sentiamo, possiamo anche andarci a prendere una pizza, nessuno ci obbliga. Questo è l'indirizzo. Io mi sa che mi fermo a vedere il film. Addirittura la mappa. Così il tempo e lo spazio non ci separa. Così il tempo e lo spazio non ci separa. Così il tempo e lo spazio non ci separa. E se la tua amica non trovo le chiavi? Ci mangeremo sta pizza. Ti va? Sì. Così il tempo e lo spazio non ci separa. Così il tempo e lo spazio non ci separa.